Sono iniziati i lavori di riqualificazione della litorania che da Manfredonia porta fino a mattinata nel territorio di Macchia Marina di Monte Sant'Angelo. In questi circa tre chilometri di riqualificazione sono previsti il rifaggimento del manto stradale, la pista ciclabile e il camminamento pedonale. Neanche un albero di ulivo è stato abbattuto, sono stati tutti quanti tassativamente ripiantati. Abbiamo inteso investire in questa bellissima parte del nostro territorio ingenti risorse pubbliche. Ci sarà a breve il rifacimento della Falesia in località Chiancamasitto, l'apertura del centro comunale di raccolta dei rifiuti in seguito ad alcuni lavori che sta ultimando l'Enel e infine verrà attivato il depuratore che è ubicato proprio qui a Macchia. In questa bellissima parte di territorio tra gli ulivi e il bellissimo mare abbiamo e vogliamo investire ulteriormente risorse pubbliche perché con il rifagimento delle infrastrutture di queste importanti opere pubbliche siamo convinti che si possa creare ancora più sviluppo e ancora più occupazione.